Ha suscitato dure condanne e indignazioni la svastica disegnata sui gradini di accesso al Museo 900 di Firenze nei pressi della lapide che ricorda le deportazioni nazifasciste. Condanniamo con forza e maniera ferma questo grave atto. Firenze medaglia d'oro al valore militare e ripudia il nazifascismo. L'antifascismo è più forte dell'ignoranza di chi compie tali gravissimi atti, ha detto l'assessore della cultura del comune di Firenze, Tommaso Sacchi. Disappunto, preciso alcune di Firenze, è stato espresso anche dal sindaco Dario Nardella. Nel complesso delle ex Leopoldine, che si trova in piazza Santa Maria Novella, dove oggi a sede del Museo nel 1944, furono rinchiuse e interrogate dai nazifascisti molte persone arrestate dai militari della Repubblica Sociale Italiana in seguito allo sciopero generale dei primi di marzo indetto dal CLN. In tutto, 338 uomini furono portati alla vicina stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e avviati l'8 marzo alla deportazione nel lager nazista di Mauthausen e nei suoi sottocampi ne sopravvissero solo 64. Non può mai essere incosciente e quindi tollerato l'uso di simboli come questi, ovunque essi siano collocati ancor più in luoghi che ricordano la sofferenza e il dolore di tante vittime innocenti, perseguitate da una dittatura infame come quella nazifascista, ha commentato il direttore artistico del Museo Novecento Sergio Risaliti.